In questo video parliamo del sensore HCSR5001 che è un PIR, è uno dei tanti sensori che abbiamo a disposizione per poter rilevare una presenza all'interno di un ambiente, di una camera, l'utilizzo è immediato. Se non sei ancora iscritto al mio canale ti chiedo di farlo, non ti costa nulla e mi dai la mano a crescere. Iniziamo subito. Oggi parliamo del sensore HCSR501 che vedete qui inquadrato. È un PIR, quindi un sensore di movimento che rileva la presenza di persone. Nella parte inferiore del sensore troviamo i PIN di alimentazione e uscita, le regolazioni e un jumper che permette di modificare la modalità di funzionamento. Proviamo a spiegare la funzione delle varie parti, anche perché purtroppo nella parte inferiore non ci sono indicazioni, non ci sono serigrafie sullo stampato. Dunque abbiamo i tre PIN che trovate nella zona centrale, posti su un lato. Uno di questi è il GROUND, quindi quello che useremo per dare l'alimentazione negativa. Poi abbiamo dalla parte opposta l'alimentazione, il PCC, che va da 5 a 12V, noi lo alimenteremo probabilmente a 5V. Il PIN centrale è il segnale di uscita e questo è a 3.3V. Permette di essere utilizzato anche con microcontrollori che funzionano a 3.3V. Funziona benissimo anche con quelli a 5V, perché comunque 3.3V viene riconosciuto come livello alto. Poi tra le particolarità troviamo le regolazioni e un jumper. Nella parte laterale troviamo un jumper, qui che può essere impostato. Questo solitamente lo trovate configurato, posizionato su questi due PIN. Vuol dire che è modalità, viene definita singola, ma significa che genererà un impulso della lunghezza determinata dalle impostazioni che avete dato. Se invece il jumper lo mettete sugli altri due posizioni, avrete un segnale non controllato. Ad ogni presenza rilevata avrete un piccolo segnale in uscita. A dire vero, poi il funzionamento non è così lineare ed evidente, quindi conviene fare qualche esperimento. Normalmente funziona in questa posizione. Qui abbiamo due regolazioni, due trimmer. Questi trimmer servono quello a sinistra per regolare la sensibilità barra distanza. Quello invece di destra dà il tempo di attivazione, cioè la lunghezza di questo picco. Possiamo collegarlo a un Arduino per testare il funzionamento. Poi, vi ripeto, i PIR sono sempre abbastanza particolari da utilizzare. Spesso non danno un riscontro immediato, quindi dovete anche agitarvi un po' davanti, perché deve rilevare una massa sufficiente e soprattutto una massa calda sufficiente per poter dare un segnale. Quindi qui abbiamo il nostro PIR. Avremo collegamento verso ground, l'alimentazione a 5 Volt e un segnale che portiamo all'Arduino. In questo caso lo porteremo al PIN 2. Per dare una segnalazione visiva di quello che accade, colleghiamo anche un LED con resistenza. Il LED lo colleghiamo sul PIN 3 e mettiamo la resistenza tra 200 e 400, io ne ho una da 3,90. Vediamo la realizzazione su breadboard. Qui ho già la breadboard con Arduino Nano cablato. Il LED sul PIN 3 con resistenza che va verso ground. Questo è il nostro sensore. I PIN non sono segnati, quindi li ho marcati con un pennarello per non far confusione. Se non ho sbagliato, dovremmo avere VPU, segnale e ground. Apriamo il nostro Arduino e scriviamo del codice per poter testare il sensore. Il codice è semplicissimo, potremmo anche evitare di usare l'Arduino, perché il segnale può essere utilizzato direttamente per pilotare un LED. Definiamo i PIN, abbiamo detto che il PIN 2 è un ingresso, quindi usiamo PIN MODE 2 INPUT e poi vogliamo accendere un LED sul PIN 3, quindi PIN MODE 3 OUTPUT. Nel loop, semplicemente, pilotiamo direttamente con DigitalWrite il PIN 3, prendendo il segnale con DigitalWrite dal PIN 2. Quindi tutto qua. Colleghiamo. Selezioniamo l'Arduino Nano, è già visto qua sulla COM 11. Compiliamo, speriamo non ci siano errori, carichiamo e proviamo il tutto. Qui vedete il nostro PIR. In questo caso la sensibilità è molto bassa, devo quasi appoggiare la mano sopra. Regolatelo utilizzando il trimmer per tararlo sulle vostre applicazioni. Questo sensore è una delle tante possibilità che abbiamo per rilevare la presenza di una persona all'interno di un ambiente. Funziona con gli infrarossi, quindi va a rilevare la presenza di calore di una certa massa. La taratura di questi PIR è sempre un po' problematica, quindi bisogna andare un po' per tentativi e non sempre danno delle misure precise. Quindi sicuramente rilevano qualcosa, se c'è qualcosa che si muove, anche perché c'è un micro a bordo che fa una serie di ragionamenti non sempre molto chiari. Spero è stato tutto interessante, saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto, ciao!